buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di galles italia quinto ed ultimo turno del guinness sei nazioni 2022 prima domanda da parte di simone battaggia la gazzetta dello sport l'anno scorso a roma contro il galles non fu una partita molto semplice alla mezz'ora gli ospiti avevano già realizzato il bonus offensivo sono una squadra estremamente organizzata con quale armi pensate di poter fare meglio e su quale armi in più può contare oggi l'italia rispetto alla partita l'anno scorso ma ovviamente non è non è paragonabile la situazione nel senso siamo due squadre molto diverse ci sono alcuni giocatori che hanno giocato l'anno scorso ma comunque restiamo due squadre molto diverse sicuramente il galles è una squadra con tanta esperienza guardiamo semplicemente bigar e halloween jones che fanno 100 rispettivamente 100 150 cap a testa e quindi insomma trovo che sia una squadra con tanta esperienza che è capace e l'ha dimostrato durante queste nazioni nonostante abbia qualcosa in meno di riuscire a restare all'interno della partita per tutti per tutti gli 80 minuti vediamo contro la francia magari come forma soprattutto la francia era dire insomma decisamente favorita ma il galles sono riusciti a rimanere nella partita avevano alla fine ha avuto l'occasione di vincere la stessa cosa è stato contro l'inghilterra trovo che insomma noi dobbiamo riuscire a mettere in difficoltà soprattutto dal punto di vista prima difensivo come diciamo sempre avere una solita una solita base da lì creare insinuare dei dubbi in loro e poi dopo essere incisivi in attacco sia palla in mano ma poi anche riuscendo a sfruttare gli spazi che ci lasceranno perché ovviamente se riusciamo a mettere in difficoltà palla in mano poi dopo alcuni spazi si possono aprire domanda da alessandro ciccioni del terreno al di là di quello che può essere il risultato di cardiff qual è il tuo giudizio sulle nazioni dell'italia quali sono stati i passi avanti e quali invece le criticità emerse ma ovviamente ci manca ancora una partita importantissima per noi è veramente un'altra opportunità quindi vogliamo affrontarla con questa mentalità sarà assolutamente una battaglia che non vogliamo lasciarci indietro trovo che sia stato un sei nazioni che ci ha lasciato ovviamente qualcosa qualcosa ovviamente un po' di esperienza in più ma poi siamo riusciti a iniziare a creare un gruppo che andrà avanti per questa strada sicuramente abbiamo iniziato un percorso quindi abbiamo rivisitato quello che erano le criticità di novembre cercando di metterla a posto siamo cresciuti tantissimo sotto il punto di vista dei calci di punizione concessi siamo cresciuti tanto dal punto di vista difensivo e anche un po' offensivo soprattutto nell'ultima partita perché poi ovviamente quella con l'Irlanda è stata un po' una partita a sé e veramente vogliamo riconfermare questa strada e credere davvero in questo processo che stiamo mettendo in atto quindi sicuramente questo gruppo ha imparato molto da queste sei nazioni domanda da paolo ricibitti del messaggero pro e contro di questo tuo primo senazione capitano che cosa non rifaresti e che cosa invece è andato bene in più qual è la critica che è stata avanzata per la nazionale e che non condividi beh allora pro e contro ovviamente però trovo che si stia amalgamando veramente molto bene il gruppo almeno da quando sono io qua dentro ovviamente non è tanto tempo ma comunque trovo che i ragazzi si stiano veramente unendo il più possibile e stiamo perseguendo un obiettivo comune che è forse una delle cose più importanti nello sport in generale e contro ovviamente i risultati non siamo stati capaci di essere a contatto diciamo fino all'ultimo con la maggior parte con tutte le partite che abbiamo fatto finora nonostante alcune abbiamo giocato un po' meglio alcune un po' meno sicuramente si è visto tanto carattere da parte dei ragazzi guardiamo la partita in Irlanda in due uomini in meno insomma è stata una situazione molto difficile che però siamo riusciti a reagire la critica che non accetto ma semplicemente quando quando si mette in discussione il nostro impegno quando ci viene detto che non facciamo abbastanza trovo che davvero siamo un gruppo che vuole mettere tutto quello che ha in campo e tutta la passione che ha in quegli 80 minuti a volte le cose non vengono a volte si gioca un po' meno bene ma la voglia e la determinazione e la passione dei ragazzi di noi non è mai assolutamente in discussione domanda da Cristian Marchetti del Corriere dello Sport la difesa non propriamente soddisfacente contro la Scozia sarà un nodo centrale contro un Galles che nella linea veloce trova velocità e cinismo quale cortezze avete studiato? sì contro la Scozia non siamo stati pienamente soddisfatti del nostro lavoro difensivo non tanto per il sistema quanto più spesso qualche errore individuale di troppo ma poi anche il fatto di non essere accesi per tutti gli 80 minuti perché abbiamo visto specialmente nel secondo tempo che abbiamo difeso davvero molto bene in molti fasi scozzese riuscendo a recuperare dei palloni importanti e questo ci ha permesso poi dopo di avere anche degli ottimi palloni in attacco quindi per noi la difesa rimane un focus grandissimo contro il Galles sarà la stessa identica cosa trovo che loro siano una squadra fisica ma che riesce a sfruttare gli spazi quando gli si lasciano Bigger soprattutto è un ottimo giocatore che sa dove attaccare e sa far circolare la palla in maniera corretta in maniera da poter innescare i suoi compagni nel migliore dei modi per questo noi vogliamo essere aggressivi prima di tutto sugli avanti loro non permettergli di prendere metri là davanti e poi cercare di chiudere gli spazi larghi per poter veramente mettergli per tanta pressione Domanda da Mark Palmer del magazine Rugby World Visto ciò che hai detto a proposito del breakdown dopo la partita contro la Scozia quanto sarà importante questa fase di gioco a Cardiff e come pensi di migliorare la vostra prestazione? Assolutamente penso che il breakdown sia in ogni partita uno dei focus più importanti perché se non riesci ad essere vincente nel punto d'incontro non hai palloni di qualità non hai palloni di velocità e quindi non riesci a mettere in difficoltà la difesa che a questo livello se dai anche quel secondo in più nel punto d'incontro si riesce a posizionare molto meglio trovo che l'anticipare quello che è il lavoro del portatore e del sostegno sia la chiave per essere più efficaci nel punto d'incontro e perciò ci siamo allenati in questo nell'anticipazione per poter veramente targettare quelli che sono i loro giocatori che andranno e proveranno a rubare i palloni Grazie a tutti per la partecipazione Grazie a tutti Grazie a tutti